Questa mattina i giardinieri comunali di Giarre hanno lavorato per compiere interventi di riqualificazione del verde urbano che hanno interessato le quattro aiuole collocate ai piedi degli storici candelabri artistici di Piazza Duomo. I giardinieri hanno provveduto alla scerbatura della vegetazione selvatica che strabordava dalle aiuole e cresceva incontrollata. Dopo la bonifica del terreno, gli operai sono passati ad interrare le piante e alla sistemazione delle siepi che verranno di stagioni stagioni arricchite da decorazioni floreali con fiori e piante del periodo. Un intervento necessario per il decoro del centro storico giarrese ha commentato l'assessore Salvo Patanè che contribuirà alla pulizia cittadina a rendere ancora più caratteristico il Duomo di Giarre.